Buonasera, buonasera a tutti. Bene, questa è la sera, la lezione numero 3 o il video numero 3 più che una lezione per fare e raggiungere il nostro corpo ideale, per creare il tuo corpo ideale. Sono già quindi due settimane piene che abbiamo cominciato il corso qui sul gruppo e sono già uscite le prime 14 frasi. Ogni giorno c'è la frase che viene scritta da Francesca quando non può magari lo scriviamo io o Carla, che vi dà la frase, il pensiero su cui meditare ogni giorno e fare una visualizzazione. Questa sera volevo farvi fare un esempio di visualizzazione un po' più ampia in modo che insieme possiamo visualizzare il nostro obiettivo e quindi vi chiedo di evitare o eviterò adesso di raccontare, di spiegare troppe cose, vi faccio fare direttamente l'esercizio. È un esercizio che si fa occhi chiusi, io siccome sono in video magari cerco di restare con gli occhi aperti e di guidarvi con gli occhi aperti. Bene, allora cominciamo e vi chiedo di chiudere gli occhi. Facciamo un piccolo lavoro energetico e così per chi non lo conoscesse, non sapesse come si fa, facciamo un esempio di visualizzazione. Quindi è un lavoro che serve per lavorare sulla nostra energia. Voi sapete che per la legge di attrazione noi attiriamo ciò che vibriamo, quindi lavoriamo su questi aspetti. cominciamo immaginando che vogliamo raggiungere un corpo ideale, un nostro obiettivo. Il peso ideale che ci supporta e che ci fa stare bene può essere un peso superiore a quello che abbiamo adesso o un peso inferiore. Ma comunque in generale l'obiettivo è quello di essere, sentirci in forma fisicamente. Cominciamo a respirare, immaginiamo di lasciare andare tutte le immagini di noi che non ci piacciono, lasciamo andare tutto ciò che sono le critiche, immaginiamo di rilassarci per un momento e cominciamo ad apprezzare quello che invece siamo. Apprezziamo la bellezza che c'è in noi, concentriamoci su quello che c'è di bello. Diciamo a noi stessi, io sono bella, io sto bene e voglio fare solo ciò che mi fa sentire bene, che mi fa sentire bella. Immaginiamo un'immagine di noi nel nostro corpo ideale, quello che vorremmo essere nel giro di sei mesi, un anno, quel che vorremmo essere. Ci sono molte cose che possiamo fare e che richiedono uno sforzo molto piccolo ogni giorno per cambiare noi stessi e farci raggiungere quell'immagine di noi che abbiamo stabilito. Immaginiamoci flessibili fisicamente, con una capacità di movimento più elevata rispetto a quella che abbiamo. Immaginiamo una forma che sia anche una forma fisica, in cui siamo forti a livello di ossa, a livello di muscoli, che siamo tonici, la nostra pelle più bella, il nostro corpo funziona bene, il nostro stomaco digerisce bene tutto ciò che mangiamo. C'è un senso di salute che emaniamo da tutti i pori in questa immagine, un livello alto di vitalità. siamo calmi emozionalmente, ma siamo mentalmente attenti, in equilibrio. stiamo seguendo una forma di regime alimentare sano, che è facile da mantenere, semplicemente abbiamo sostituito dei cibi, ma con gioia, lo facciamo con facilità e ci gustiamo il cibo. Ora focalizziamo la mente, la nostra visione di questa noi stessi, questa parte di noi, ciò che noi saremo, ciò che vogliamo diventare, questa immagine. Diamo l'energia. Con la nostra attenzione continua, questa immagine, noi diamo energia e dando energia stiamo creando, stiamo dicendo all'universo cosa vogliamo e stiamo vibrando quella vibrazione alta che è come se fossimo lei. Noi siamo lei o lui, questa immagine di noi in questo momento. Io amo il mio corpo. e se amiamo il nostro corpo adesso, già ora, così com'è, stiamo attivando la connessione tra l'amore che abbiamo per questa immagine ideale e la nostra immagine di adesso, del nostro corpo di adesso. il messaggio è io accetto il mio corpo e lo amo così com'è e se io accetto e amo il mio corpo così com'è, mi apro a renderlo sempre più bello, sempre più funzionale, sempre più in forno. Decidiamo quindi che amiamo il nostro corpo adesso. non quando avrò perso peso, quando lo avrò guadagnato, quando sarò così, quando sarò così, quando sarò così. Io amo il mio corpo adesso. Io comincio ora a muovermi, a comportarmi come una persona meravigliosa. e inizio adesso a pensare di me stessa, di essere una persona meravigliosa. di avere abiti che mi stanno bene e che migliorano la mia figura, che sono del colore giusto. e inizio da subito a mostrarmi, a valorizzarmi. ora comincio, perché solo se lo faccio ora mi sento in forma ora. e voglio cominciare, stabilisco ora, di essere, di sentirmi bella e in forma ogni giorno. pensiamo ora ad alcune caratteristiche del nostro corpo che amiamo in particolare. ci sono delle cose già che ci piacciono di noi. creiamo un'immagine di noi molto attraente, che amiamo molto, in cui qualcuno ci dice, adesso, come siamo adesso, oggi sei meravigliosa, sei bellissima. e attacchiamoci a questa sensazione, a questa emozione di qualcuno che ci dice, oggi stai benissimo, oggi sei bellissima. e proviamo questa emozione, impegniamoci a sentirci così. sono le nostre menti, è la nostra mente che deve accettare il modo in cui noi appariamo. perché nel momento in cui lo accetta, è pronta a valorizzare di più e attiva il cambiamento. quindi amiamo il nostro corpo ora per evolvere verso una maggiore salute, una maggiore forma, una maggiore forma fisica. lasciamo andare tutti i pensieri di volerci cambiare. e pensiamo che è facile amarci così come siamo ed è facile fare dei miglioramenti continui del nostro corpo. questi miglioramenti possono passare attraverso un nuovo modo di mangiare, un nuovo modo di muoverci, introducendo piccole variazioni sostenibili nella nostra vita. e ricordiamoci questa immagine di noi di come vogliamo essere e ricordiamola. spesso durante il giorno energizziamola, più le diamo energia e più questa immagine diventa la nostra realtà. ciò su cui noi ci focalizziamo si espande. focalizziamoci sull'immagine di ciò che vogliamo diventare e facendo così lo diventiamo. bene, vi lascio per questa sera con questa visualizzazione, magari ne facciamo un'altra anche lunedì prossimo, ora vediamo cosa fare. mi raccomando però continuate a fare le frasi quotidiane, vedo un po' pochi commenti. ci sono i momenti di defaianza, se avete perso qualche giorno, non avete fatto nulla, siete in tempo per recuperare. non è importante guardare il passate di ero sbagliato o dimenticato, riprendete con tranquillità e andate avanti da qui. ciao a presto, ciao. ciao a presto, ciao a presto.